Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano e Bivio variante di Valico. Sostiamoci in FIPILI dove verso Firenze troviamo code per lavori tra lo svincolo di Empoli e Montelupo Fiorentino e tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina, chiusa l'uscita di Tirrenia per chi proviene da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra, corre e strincimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sull'autostrada 11. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a caso di una frana. Vi invitiamo al rispetto dei limiti di velocità, anche in ZTL e nelle zone 30. Morsi Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, città e metropolitane e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!